Ciao ragazzi, come state? Bentornati sul canale di Dieci e LOL con un nuovo episodio di questa fantastica avventura sulla nostra isola Frapfrog su Tomodachi Life. Se avete seguito gli episodi di Tomodachi Life dall'inizio fino ad ora vi ricorderete che avevamo parlato della possibilità di avere anche dei figli. Ecco, io ci ho sperato fortissimamente in questo, l'ho proprio desiderato, speravo che Miley e Justin potessero. Purtroppo non ci sono riuscita, non ho giocato abbastanza per fare in modo che potessero avere questo figlio, io ci speravo, volevo proprio farvelo vedere, invece niente. Dopo essersi sposati ed essere andati a vivere insieme, però devo ammettere che il nostro appartamento ha cominciato a svuotarsi un po'. Quindi ho deciso di aggiungere due miei amici youtuber all'interno dell'isola che sono Simone e RichardHTT. Nel frattempo ho tentato in tutti i modi di fare amicizia con Selena ma non c'è stato verso, ho cercato anche di fare una chiacchierata a tre per riuscire a trovare dei punti in comune, ma niente, non c'è stato davvero modo, abbiamo due caratteri praticamente incompatibili. Poi ho pensato, oltre alle interazioni tra i vari personaggi e quindi le amicizie e gli amori che possono nascere, perché non esplorare l'isola anche da un punto di vista dei minigiochi che si possono fare, come ad esempio andare in giro a scattare foto o fare dei giochi a Luna Park o cose del genere. Quindi innanzitutto ho regalato a Violetta un buono per fare un viaggio e lei è partita con Selena verso New York. E mi ha anche riportato un souvenir. Dato che negli ultimi tempi l'ho trascurato un po', ho deciso di passare un po' di tempo con il mio personaggio Fraffron. Facendogli fare il bagno e facendo salire di livello il personaggio, ho potuto insegnargli anche una frase. Perché quello che non sapete è che non solo i personaggi vi assomigliano dal punto di vista fisico e caratteriale, ma potete anche insegnargli a parlare esattamente come voi, le vostre espressioni tipiche, quando siete felici, tristi. Quindi ragazzi, io per oggi vi saluto. Ricordate di rimanere sempre qui connessi sul canale di Dieci e LOL, così potrò farvi vedere tutte le altre fantastiche cose che possiamo fare nel mondo di Tomodachi e soprattutto nella mia stupenda fantastica isola, cioè la nostra stupenda fantastica isola. E ci vediamo una prossima volta. Ciao!